Sul fronte dello sviluppo è la novità dell'anno prossimo. A partire infatti dal 1 gennaio, per effetto del Decreto Sud, le attuali otto zone economiche speciali, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, confluiranno in una ZAS unica per il mezzogiorno. Quindi niente più commissari per l'attuazione, ma una sola cabina di regia a Roma, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, alla quale toccherà anche il compito di vigilare sull'utilizzo delle risorse finanziarie. Risorse che, bene o male, ci sono a patto di saperle intercettare e destinare agli interventi giusti. Uno dei settori che offrono maggiori possibilità, in virtù anche dei dettami di sostenibilità impartiti dall'Unione Europea, è quello della transizione ecologica. Coniugare gli incentivi e le agevolazioni fiscali con la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio, è la sfida che le regioni si troveranno ad affrontare. L'Abruzzo si presenta già competitivo all'appuntamento con il futuro, ma anche consapevole che non è finita qui. Preparazione e aggiornamento, in maniera continuativa, sono necessari per stare al passo con le novità, senza perdere alcun treno a cominciare da quello della programmazione 2021-2027. Una buona opportunità è quella offerta da Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, che a Chieti ha organizzato il convegno a tema ZES, Comunità Energetiche e nuova programmazione 2021-2027, per una politica regionale di sviluppo. Ci abbiamo tenuto in modo particolare ad organizzare questa mattinata di confronto su tematiche molto sensibili per il nostro mondo e per le imprese, quindi a partire dalla ZES, Comunità Energetiche, fino ad arrivare alla nuova programmazione 2021-2027 della regione Abruzzo, quindi che metterà in campo ingenti risorse per l'artigianato e non solo, quindi per tutto il sistema produttivo abruzzese. In un momento di confronto è importante perché Confartigianato vuole esserci per affiancare e supportare le imprese in questa fase di transizione, è importantissima perché si gioca il futuro della loro anche sopravvivenza, perché non dimentichiamoci che il PNRR mette in campo risorse importanti, ma queste risorse vanno ben spese, soprattutto nell'interesse delle imprese. Su questo noi vogliamo affiancarle per far sì che vengano spese al meglio in modo tale da migliorare l'efficienza e la capacità produttiva delle nostre imprese. Dal 1 gennaio 2024 la ZES cambia pelle e diventa ZES unica per il mezzogiorno. Questa novità ha suscitato anche qualche polemica, in particolare c'è chi teme un rischio di accentramento capitolino e quindi politico, altri invece ritengono che sia una vera e propria occasione imperdibile per il Sud Italia. Riteniamo che la ZES unica sia una opportunità, una opportunità anche per la Regione Abruzzo, in quanto la ZES era limitata soltanto a un numero molto limitato di comuni. Invece ora è una ZES estesa a tutto il territorio della Regione e quindi acquisendo tutti quelli che sono i benefici che comporta una zona speciale, economica speciale e quello che posso dire è sì, forse la governance cambia la governance, ma è una governance centralizzata perché è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questo non significa che invece sia una cosa positiva nell'ottica dell'unitarietà e del rilancio del mezzogiorno tutto. Grazie.